Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove ci sono rallentamenti per lavori al chilometro 17 tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Attenzione al mezzo pesante fermo in avaria in entrata ad Empoli Ovest in direzione Livorno. In A1 rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano e Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Guidare con prudenza per il vento forte in A1 tra Chiusi Chianciano e Roma Nord e in A12 tra Pisa Centro e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia Sud e in FIPILI tra Firenze e Livorno. Infine per gli aerei a causa del forte vento i voli da E per Firenze stanno subendo ritardi, cancellazioni o dirottamenti su altri scali. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!